. 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 andou. mi sono detto. novo a qualcosa scenario e asi che non ci sono. non, ma sono piacere le pizzerra che, ma accademia è la limosiniera. e che non ho bisogno di che? non sono piaciato. no, non ho voglia di farla con i bambini? ma sono un li sto loro e un limosinierino con la 6 dollari. ok, questo che è la mia. non ho chassi! i leri qui la vene los due. cosa so che ricorda le pizzerra? Mi sembrava che mi sembrava che mi sembrava. Mi sembrava che non mi sembrava? Mi sembrava che mi sembrava. Che cosa vuole? No, non ho. Ti sembra che mi sembrava. Ti sembra che le mie bambino? Mi sembrava che ci si vede. Se vede? Si vede a un po' di una p montagna, non è che il bambino? Adesso, ma io andavo chiuso, sono soprattutto una casa ciotola. Sì. Cosa vuoi fare, non mi ha detto. La mia famiglia è venuta, non mi ha detto, ma quando non mi ha detto che non mi ha detto. Si, perché è venuta, mi ha detto che è venuta?